Ginevra Lamborghini prova interesse per Nikita Pelezzon, GFVip non lo nascondevo affatto. In una lunga intervista a casa che Ginevra Lamborghini, dopo aver raccontato di aver chiuso con Antonino Spinalbese, ha confessato di essere attratta dalle donne ultimamente. Sono soggetta al fascino femminile ha raccontato l'ex concorrente del grande fratello Vip prima di rivelare che una persona per la quale prova interesse è Nikita Pelezzon. Sua ex inquilina nella casa più spiata d'Italia. Ginevra Lamborghini nell'ultimo appuntamento di casa chi ha raccontato di essere soggetta al fascino femminile ultimamente. L'ex concorrente del GFVip che già durante la permanenza nella casa raccontò di aver avuto esperienze con le donne. Ha confessato di sentirsi attratta da Nikita Pelezzon. Stando alle sue parole, non avrebbe mai nascosto il suo interesse già durante il reality. Sono soggetta al fascino femminile ultimamente. Sarà la primavera. Chi mi sarebbe piaciuta nella casa? Nikita, ma non lo nascondevo affatto. La storia con Antonino Spinalbese è terminata invece ancora prima di iniziare, lo ha messo la Lamborghini nel corso della lunga intervista nella quale ha parlato solo di un rapporto di amicizia. Siamo rimasti amici. Questo affetto che ci legava c'è sempre stato. Forse le cose dovevano andare così, le parole. Nel corso della sua esperienza al grande fratello Vip Ginevra Lamborghini raccontò di aver avuto esperienze con delle donne. A me piacciono davvero svelò, senza nascondere i dettagli sulle due relazioni avute. Una più burrascosa, l'altra vissuta con grande leggerezza. Ho sperimentato con serenità. A me piacciono davvero le donne. Anche quando vado in palestra, il corpo di una donna è bello. Confessò alle sue ex inquiline, Elenoire Ferruzzi, Sara Manfuso e Antonella Fiordelisi. Anche quando vado in palestra, il corpo di una donna è bello.